Nuova opportunità per le donne campane per entrare nel mondo del lavoro e acquisire nuove competenze. E' partita infatti l'iscrizione alla seconda edizione di Io un Sogno, l'avviso destinato a tutte le donne campane dai 18 ai 50 anni che potranno partecipare a corsi di formazione, master e corsi di specializzazione in Italia e in Europa con un contributo fino a 3.000 euro. L'iniziativa nella precedente edizione, come ha ricordato l'assessore alla formazione Pari Opportunità, ha già permesso a più di 2.500 donne della campagna di fruire di un'importante opportunità volta a valorizzare le competenze e le conoscenze delle donne e destinata quindi a facilitarne l'ingresso nel mondo del lavoro. Per questa edizione particolare attenzione viene riservata alle discipline del cosiddetto ambito STEM, Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica che offre importanti possibilità di inserimento lavorativo risentendo ancora tuttavia di una bassa partecipazione femminile. L'assessore ha infine spiegato che i voucher possono essere una concreta occasione per ottenere una qualificazione professionale per tante donne che nella difficile conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa hanno spesso sacrificato il raggiungimento di obiettivi lavorativi, ma possono essere molto utili anche alle donne che già studiano o lavorano e che potranno così approfondire e valorizzare il percorso formativo intrapreso.